Allora, visto che c'è luce, ne approfitto anche per concludere, per fare un argomento carino, ecco, relativo alla flora, per quanto riguarda la Grecia. C'è giusto qualche nota così molto carina da leggere, ve la leggo, poi vi faccio vedere anche qualche immagine. La Grecia è terra di una bellezza selvaggia, promontori rocciose e insenature savviose si alternano sulla fascia costiera. All'interno si trovano massicce catene montuose, gole di rupi, regno di aquile rapace. La stupenda varietà della vegetazione, che comprende molte specie di fiori primaverili selvatici, è fortemente influenzata dal clima mediterraneo, gode infatti di estate lunghe, molto calde e secche, ed inverni micchi e umidi. Lo sfruttamento delle foreste a favore dell'attività agricola e la produzione di legname hanno determinato il sorgere di un mosaico di campi fioriti e macchie di arbusti, quelli aromatici del macris e quelli della più degradata frigana. I milioni di capri sono un pericolo per la vegetazione, ma non c'è nulla di più romantico in Grecia, di gregge a pascolo tra olivi e resti archeologici, come capita di vedere a Spartan e Peloponneso. Poi qui il libro mostra qualche immagine di paesaggio, ad esempio i paesaggi collinari con imponenti cipressi che si stagliano alti e scuri contro i ripidi pendii, sono associati ai siti archeologici della Grecia, vale la pena visitarli, compreso la città bizantina di Mistra, anche solo per le bellezze naturali, come i fiori primaverili spontanei. Vi troverete orchidee raro e margherite, papaveri e calendule. Anche se purtroppo la qualità è sempre abbastanza pessima. Poi gli ulivetti si trovano in tutta la Grecia a bassa quota, qui siamo ad Argalasti sul Pelio. In primavera all'ombra degli alberi sboccia una profusione di fiori che attraggono farfalle e insetti, le lucertole si nascondono alla ricerca di insetti nei tronchi contorti, dove fanno il nido uccelli come le averle mascherate. Ecco, poi c'è questa landa cespugliosa del Machis che abbiamo visto prima, domina questo paesaggio vicino a Micene. Le rose di roccia si alternano alle erbe aromatiche, la pispoglia africana e l'ontananza presenta cespugli di vecce spinose. Questo è il tipico paesaggio, come vedete, un po' brullo anche se vogliamo, roccioso, dove crescono questi arbusti che abbiamo visto prima. Poi ecco, per quanto riguarda i fiori selvatici, la Grecia presenta un gran numero di piante da fiore, ne crescono almeno 6.000 specie, alcune delle quali non si trovano in nessun altro luogo del mondo. Questa ricchezza floreale si deve in parte ai vari abitati presenti nel paese, che vanno dalle zone umide, dalle pianure costiere e dal basso Machis, alle cime montane innevate. Molte piante crescono in inverno, la stagione è più umida e fresca, mentre il periodo di fioritura va da marzo a inizio di giugno. Le aree costiere del Peloponneso sono probabilmente le più ricche di fiori selvatici. Alcune specie sono il gladiolo selvatico, che è presente in diverse varietà, il giacinto fiocco, prende il nome dal suo aspetto, cresce in campi aperti, il Cittinus ipocistis, è una pianta parassita che cresce vicino agli arbusti, e il Cistus salvifolius è diffuso nel Mapis, i suoi fiori colorati attraggono gli insetti impollinatori. Abbiamo poi la spodelo bianco, che cresce spesso ai bordi della strada in molte zone della Grecia, che sono alte spighe con dei fiori bianchi. Vi faccio vedere qualcosa. Ecco, e poi abbiamo le orchidee. Una delle attrattive botaniche principali della Grecia è rappresentata dalle specie di orchidee silvatiche, che fioriscono dalla fine di febbraio a maggio. Hanno tutte forme strane e fiori spesso a colori vivaci, per attraggere gli insetti impollinatori. Abbiamo l'orchidea ammaculata, presenta macchie sul labello, fiorisce in collina d'aprile. Anche questa è presente in Italia. Solo che in Italia la chiamano dita da morto, se non ricordo male. Non so se propriamente è un'orchidea pura. Dovrebbe essere comunque un'orchidea, cioè far parte proprio della famiglia dell'orchidee. Questo fiore qui effettivamente ha delle macchie anche sulle foglie, questi fiori molto cupi. Poi abbiamo l'orcus italica, che è un folto grappolo di fiori rosa tenue, cresce nel bosco. E l'offris spruneri, dalla forma simile a un bombo, si trovano in macchies all'inizio della primavera. Niente, allora direi, il discorso sulla Grecia lo concludo qui. Ovviamente poi se troverò altri libri carini ve li leggerò senz'alto. Spero che sia stata una lettura simpatica, direi, intanto per parlare un po' di tutto.